Sì, sono Andrea Pedrazzini, Field Marketing Technical Manager di Iacem, oggi parliamo di una novità, in quanto parliamo di Keto Green Direct, quindi il nuovo Keto Zano di origine fungina. Nuovo perché? Perché al momento sono 24 le sostanze di base approvate, approvate ovviamente a livello europeo, secondo quanto consentito dal regolamento CE della 1107 del 2009 e il Keto Zano non cloridrato di origine fungina rappresenta proprio l'ultima e la 24esima sostanza di base approvata in questo elenco, quindi tendenzialmente quando parliamo di sostanze di base, parliamo di prodotti alimentari utilizzati anche per scopi fitosanitari, ricordo che sono prodotti di libera vendita e, aspetto importante, sono sostanze approvate a livello europeo per un periodo illimitato di tempo, oltre che essere a basso impatto in quanto tendenzialmente sono prodotti utilizzati nell'industria alimentare. Quindi Keto Green Direct a base di Keto Zano, da origine fungina, ottenuto dalla chitina di un ceppo di aspergillo, sniger esente da micotossine e non cloroidrato, quindi si differenzia rispetto al precedente Keto Zano, già approvato e abbiamo visto nell'elenco in precedenza. Che cos'è il Keto Zano? È una molecola lineare molto lunga, composta da diverse molecole di glucosamina e quindi un biopolimero ottenuto dalla deacetilazione della chitina. Aspetto molto importante a livello qualitativo è l'elevato grado di deacetilazione, in quanto non abbiamo acido cloridrico, elevato grado di deacetilazione per quanto riguarda il Keto Green e anche la sua formulazione liquida. Questi aspetti li sottolineo perché sono aspetti molto importanti a livello di formulazione e determinano una maggior solubilità in acqua della formulato, una maggior miscibilità anche con altri mezzi tecnici utilizzati in campo e ovviamente una facilità di utilizzo rispetto ad altre formulazioni non liquide in quanto non crea problemi di intasamento agli ugelli, alle attrezzature, quindi più facile da utilizzare in campo e otteniamo così una distribuzione più uniforme sulla vegetazione da trattare. Ovviamente come Keto Zano abbiamo un ampio spettro di azione, possibilità di impiego su tantissime culture che vengono definite in un review report a livello europeo che definisce le caratteristiche di base, le caratteristiche qualitative da rispettare, ovviamente i campi di impiego, dosi, intervalli di sicurezza, eccetera. Abbiamo sicuramente una flessibilità di impiego su vite da vino e di Keto Zano che agisce per diversi modalità, in senso che abbiamo sicuramente un meccanismo di azione diretto in quanto le cariche positive e negative vanno a interagire sulla membrana cellulare dei funghi e batteri patogeni. L'aspetto sicuramente è rilevante riguarda l'azione elicitoria nel Keto Zano in quanto composti fenolici, fitoalessine sintetizzate appunto stimolano i meccanismi di difesa della pianta e abbiamo anche un effetto di barriera fisica semipermeabile che va a regolare le vapotraspirazioni, quindi utile in ottica anche di prevenzione della stress adiotici. Numero applicazioni da 4 fino a 8 massimo per stagione, dose di impiego da 1 a 4 litri per ettaro. Passiamo subito alle prove di efficacia effettuate nel corso del 2022 con diversi centri di saggio, in particolare con AgriSearch Innovation, qui siamo su Cultivar Merlot. In questa prova l'obiettivo era quello di saggiare l'efficacia del nostro Keto Green Direct, quindi formulazione liquida con Keto Zano di origine fungina, rispetto ad altri Keto Zani o cloridrati da origine animale, o sempre di origine fungina ma in polvere bagnabili. A fronte di un attacco registrato particolare su testimonio trattato circa il 38%, vediamo come il Keto Green si è comportato bene e anche leggermente meglio rispetto alla polvere, questo proprio per la facilità di utilizzo del formulato che accennavo prima. Altra prova, qui siamo su una cultiva decisamente più tardiva, ci ha permesso di fare questa prova, e l'impostazione simile alla precedente, quindi il Keto Green Direct in confronto ad altri Keto Zani, abbiamo qui in confronto anche con la strategia aziendale che operava in regime di agricoltura biologica. In questa prova abbiamo raggiunto un 64% di attacco a livello di incidenza per quanto riguarda il testimone non trattato e il Keto Green ha raggiunto un'efficacia del 70% e dell'84% per quanto riguarda rispettivamente incidenza e severità, quindi efficacia maggiore anche rispetto ad altri Keto Zani utilizzati in prova e buon comportamento anche nei confronti della strategia adottata a livello aziendale. Quindi passando direttamente quelle che sono le conclusioni, ricordiamo che parliamo di un nuovo Keto Zani, Keto Zani appunto non da origine animale ma da origine fungina, non coloridrato che possiamo assolutamente utilizzare in opportune strategie in alternanza o anche in miscela grazie alla sua formulazione particolare con altri mezzi tecnici consentiti in agricoltura biologica. E appunto sottolineiamo ancora una volta gli elevati standard qualitativi, quindi la formulazione liquida e il basso peso molecolare che ci permettono maggiore uscibilità, solubilità e facilità di utilizzo con le normali attrezzature. Tra gli altri aspetti ricordo appunto non abbiamo un intervallo di sicurezza e da quest'anno a livello di catalogo Kimi Berg abbiamo deciso di inserire oltre al chitosano anche un estratto di Ortega. Qui riportiamo, anche se non ci soffermiamo, le strategie per la difesa della vite, giusto per ricordare che abbiamo una linea molto completa e per quanto riguarda la lotta alle cicaline ricordo il nostro meter, quindi sospensione concentrata a base di delta metri, è entrato a livello di etichetta e registrato anche su Notte. Io ringrazio i primissi colleghi di marketing che sono presenti in zona e tutti voi per l'attenzione. Grazie a tutti.